Voi sapete che io amo più stare sugli alberi che dentro le costruzioni umane, non mi fido dei ponti, non mi fido delle case, quando vado a una casa vecchia tasto il solaio perché a volte ballano, non mi piace, non mi fido. Insomma, alla fine qual è il problema? Il problema è che noi ci fidiamo tantissimo delle costruzioni umane, tranne me ovviamente, e invece quello che mi dà a me la grande sicurezza, la tranquillità, è un albero. Ora, escludiamo il fico, che in effetti il fico dicono sia traditore, in effetti il fico, sali su un fico e non dà tanta sicurezza, provate e poi vi fate sapere. Ma un albero che sia un ulivo, sperando che non sia un ramo marcio, o che sia un albero anche di imponenti, di grandi dimensioni, pensiamo a una betullona gigante, pensiamo ad un castagno, pensiamo ad un bellissimo faggio. Sono piante che hanno una grandissima robustezza, stabilità e che danno, almeno a me, danno una grande sensazione di sicurezza quando ci salgo sopra. Mi trovo benissimo, mi siedo, sto lì e come quando magari voi vi sedete sulla maca e dondolate, io sto lì, mi dondolo un po' sull'albero. E in me ritorna quell'atavico modo di vivere, che era tipico delle scimmie. In fondo, io sono una scimmia mancata, per tanti aspetti. E mi viene in mente una famosa, insomma, rivisitatissima storia africana, che dice che le scimmie, alla fine, torneranno sempre sugli alberi. E noi, invece, a un certo punto, abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo scelto il rischio, il rischio di non tornare una notte a dormire sugli alberi dove stavamo sicuri, tranquilli, dove nessuno ci toccava. E abbiamo deciso di rimanere a terra, di imparare a correre, di essere liberi nello spazio della savana, fuori dalla accogliente e tranquilla boscaglia che per milioni di anni ci aveva dato la casa. E voi vi direte, perché invece le scimmie, che comunque anche loro sono cambiate da allora, si sono evolute ma in altra maniera, rimanendo sugli alberi. Ad esempio, si sono divisi, come sapete, gli cimpanzei da bonobo, perché c'era un ostacolo naturale intorno, questo significa che le specie variano sempre. Però, loro hanno fatto una scelta diversa, hanno scelto la comodità. Mentre noi, umani, abbiamo scelto il rischio, come abbiamo scelto sempre il rischio nell'attraversare i mari, nell'arrivare nelle zone artiche, nel resistere agli inverni gelidi. Siamo arrivati in tutto il mondo già come homo erettus, e questo è incredibile se ci pensate, perché evidentemente eravamo quella frangia di scimmie, non coraggiose, peggio, di scimmie incoscienti. E probabilmente io, invece, ho questa riminescenza di... Nella accoglienza materna che il bosco dà, nel sentire che quello è il luogo sicuro, e non lo è la savana, non lo è la pianura, il deserto, la montagna ghiacciata, non lo è nemmeno il mare. Quindi le scimmie hanno avuto paura, e per questo non sono diventati uomini. È possibile. È triste, ma forse, dal loro punto di vista, siamo noi, quelli ciucchi, quelli matti, che hanno fatto una scelta folle e insensata. Una scelta che alla maggior parte è andata male, ma a qualcuno più fortunato, è capitato, l'ha portati avanti, tra vari colli di bottiglia, a modificarsi, a cambiare, fino ad arrivare a dar vita a noi. Quindi, noi siamo discendenti, sia dei più coraggiosi, dei più matti, ed anche dei più fortunati, se ci pensate. Noi abbiamo sfidato qualunque rischio, abbiamo visto dall'alto la brezzura del barro sotto, e abbiamo detto, che facciamo? Saltiamo e proviamo a vedere che c'è di là. E abbiamo sempre fatto così, attraversando crepacci, attraversando mari, creando ponti, gallerie, imbarcazioni poco stabili. E probabilmente, se ci riusciremo, andremo anche a visitare altri pianeti. Andremo almeno su Marte, sulla Luna, ce l'abbiamo già stati. Andremo su Marte, e poi difficilmente potremo andare oltre. Ma magari qualcuno di noi si spedirà in una vicella, sperando di resistere per migliaia di anni, e vedere la luce del nuovo sistema solare, quando arriverà il momento in cui il Sole non sarà più la nostra stella madre, ma inizierà a fare le bizze, inizierà a essere ostile alla vita. E questo potrebbe salvare l'umanità e portarla avanti, oltre i confini del nostro sistema solare. Ma questo qui è giusto? Ne vale la pena? È sensato? È necessario che ciò avvenga? Oppure possiamo accontentarci, come tutti gli altri animali faranno, a meno che non li portiamo con noi, di aspettare, attendere quando il pianeta avrà un clima inospitale, a causa del Sole, che, sapete, diventerà una gigante rossa, ma diventerà comunque anche prima di questo, piuttosto insidioso per la vita terrestre. E sostanzialmente finiremo, la vita finirà sulla Terra prima o poi. Come è iniziata? È stato un grande miracolo? La fine è inevitabile. È giusto allora rimanere nella savana, sugli alberi, dondolandoci in attesa di quel momento, in maniera così poetica, come magari farei io? Oppure hanno ragione quei coraggiosi, folli, sognatori, infelici, perché comunque non hanno avuto la felicità, ma hanno avuto soltanto l'infelicità, hanno avuto soltanto altri problemi, che decideranno di andarsi da questo sistema solare. Magari rimarranno un po' su un Marte e diventerà un po' meno disabitato, ma senza lo scudo del campo magnetico sarà difficile, e poi si spediranno verso un altro sistema stellare, in attesa di arrivare oltre, in cerca dell'ignoto, come hanno fatto gli uomini Iomo Eretus quando hanno conquistato nuovi continenti, ignari di quello che li attendeva. Voi volete essere fra questi? Oppure dite, va bene così, è stata una bella avventura, ma ogni cosa deve finire. Voi sapete, io sono convinto che la vita abbia il senso della finitezza, cioè che noi dobbiamo accettare che finisce, dobbiamo accettare che il nostro ciclo finisce, che quello dei nostri figli finirà, e poi che tutto l'universo diventerà gelido e freddo, perché alla fine non potremo scappare da questa bolla in cui abitiamo. Per quanto noi cerchiamo nuovi pianeti, nuove forme di energia, alla fine arriveremo tra miliardi di miliardi di anni, ma sono certo che ci estingueremo prima, nonostante tutta la nostra protervia, tutta la nostra arroganza, tutta la nostra hybris, noi alla fine ci estingueremo perché il tempo è fatto così, per non far durare nulla, nemmeno l'intero universo è eterno. E quindi, a mio parere, non è qui che dobbiamo cercare l'eternità, non è qui che dobbiamo puntare all'immortalità, ma forse se abbiamo questo senso e questa voglia di mortalità in un mondo mortale finito, è perché evidentemente noi abbiamo, dentro di noi, oppure in grado di controllarci, oppure parte di noi da qualche altra parte, una coscienza immortale, qualcosa che sopravviva al corpo e alla morte. Quindi non c'è bisogno di andare a cercare l'immortalità per forza, a mio parere non è necessario. Dobbiamo invece cogliere questo momento della vita, questo momento in cui noi sperimentiamo, noi stessi per manifestare invece che la nostra ibris, il nostro spirito umanitario, il nostro spirito verso gli altri, ma anche verso il rispetto di noi stessi, della nostra finitezza. Dobbiamo accettare. La vita è fatta per accettare, secondo me. E voi? Che ne pensate? Io mi rendo conto che questo pensiero va contro l'evoluzione che abbiamo avuto finora, ma io credo che se l'essere umano un giorno diventerà saggio, capirà che a un certo punto basta, che conviene fermarsi prima di distruggere tutto quello che di buono abbiamo costruito. E voi? Cosa ne pensate? Fatelo sapere nel gruppo Telegram Amici di Fulgenzio. Ci sentiamo lì. Vi aspetto. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola l'eremita. È gratis. E attiva la campanellina per non perdere nessun video.